Il quartiere di Gimarra Fano avrà finalmente un nuovo volto e soprattutto nuovi servizi. A fianco della nuova chiesa del Carmine sono ripresi all'interno del cantiere Fano Alta, fermo dal 2010, i lavori per completare l'intera opera abbandonata da anni, dove un tempo sorgeva l'ex colonia Inam. Già dai giorni scorsi gli operai sono al lavoro per completare il fabbricato che si divide in centro civico, appartamenti, uffici e negozi. Ad oggi è stata realizzata una parte dell'opera, ovvero i locali al piano terra di proprietà del comune e a disposizione della cittadinanza, una grande sala riunioni e uno spazio per i clebanziani del quartiere, inaugurati lo scorso anno. Fanesi, dopo i lavori effettuati al piano terra, prenderanno il via quelli al secondo piano. Che cosa verrà realizzato? Di sopra verrà un co-working, verrà uno spazio dedicato alle associazioni, quelle del quartiere, ma non solo, con appunto versatilità di spazio in maniera tale che possa essere utilizzato e condiviso anche da tante associazioni che ravvivono questo quartiere, ma la città in generale. È tanto attesa anche da questo quartiere. Infatti sono ripresi i lavori, proprio in questi giorni abbiamo fatto un sopralluogo per vedere l'avanzamento, ci siamo resi conto che insomma alcune finiture devono essere fatte nei parcheggi intorno alla chiesa, nella scarpata vicino alla statale. All'interno fra l'altro verrà realizzata anche una piazza che sarà utilizzata per scopi sociali e aggregativi anche da tutto l'abitato e quindi sicuramente questa è una cosa molto positiva. Siamo contenti che l'imprenditore Fabrizio Sorcinelli abbia creduto in questo progetto, abbia collaborato e sta collaborando con l'amministrazione comunale, abbia avuto il coraggio di investire tanti soldi in questo recupero per togliere dal degrado e dall'incuria a cui era stata destinata a tanti anni dal precedente fallimento. Inoltre nella parte restante del plesso le ditte, tutte del posto, proseguono con la pulizia e il completamento di quella che doveva essere una struttura centrale per la zona mettendo fine, una volta per tutte, ad una delle incompiute di Gimarra. Sorcinelli, come mai questo interessamento e investimento a Fano? Visto che sono originario di Fano avevo pensato di andare avanti con questo progetto che mi è piaciuto dall'inizio. Si tratta di un investimento importante, pensavamo anche di strutturare l'operazione immobiliare in due fasi, una fase il progetto residenziale che sono 30 appartamenti che cercheremo di terminare la prima parte per fine anno 2024, inizio 2025 per poi completare il tutto fino alla fine del 2025. Quali sono stati invece i commenti dei residenti di Gimarra sulla ripresa dei lavori di questa struttura? Noi abbiamo parlato con varie persone che frequentano anche il centro sociale, sono contentissimi che qualcuno abbia ripreso questo progetto in mano e vorrebbero che si sviluppasse anche questa zona commerciale che mancano di certe infrastrutture da tanto tempo.